musica 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 ma grandi oh che cazzo aspetta vieni qui zappa Andrea ma che cazzo hai fatto ragazzi c'è una situazione un po' dubbia sposta con il braccio dopo la sparata una delle poche volte della sua vita ragazzi è commercialista un dottore musica musica vediamo bene musica 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 Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Sono samurai. Come al solito, samurai vinci. Grazie. No, nemmeno.